Riapre il punto tamponi a Pesaro, ma non sarà più in strada dei cacciatori a Villa Fastigi. Il comune, assieme ad Asura, ha deciso di trasferirlo in via Lombardia, dove si trova la sede della protezione civile. Una decisione che è stata presa per via dell'aumento dei contagi, che rendono la riattivazione non più rimandabile. Nel frattempo i cittadini che hanno bisogno di fare il tampone molecolare dovranno necessariamente rivolgersi, come hanno fatto fino ad oggi, a Fano o a Rubino. La struttura a Pesarese, infatti in via dei cacciatori a Villa Fastigi, era stata chiusa ad agosto scorso, quando l'incidenza dei casi era bassa e i tamponi si riducevano a poche decine al giorno. Per questo l'Asura aveva ritenuto di dover razionalizzare le risorse, tenendo aperta la struttura di Fano, al Cotma e quella di Urbino. A spiegare nel dettaglio quando aprirà e come funzionerà il nuovo servizio è l'assessore comunale Enzo Belloni. Avevamo richiesto ad Asur di aprire il nuovo punto tamponi a Pesare, ci siamo proposti con l'ex mercato ortofrutticolo, che peraltro è la sede della protezione civile comunale. Abbiamo deciso quel luogo lì di utilizzarlo nelle ore pomeridiane, perché al mattino ci sono le attività commerciali, quindi non vogliamo interferire nelle attività, nel mercato ittico, nel mercato ortofrutticolo, con tutte le attività che ci sono in quella zona lì, però c'è stata data da parte dell'Asura grande disponibilità e sarà un punto tamponi che funzionerà dalle 14 in avanti, una volta che le attività lì sono sospese. Pensiamo di iniziare prima della fine di novembre, porteremo il container che avevamo nella zona del centro operativo, lo porteremo direttamente in Via Lombardia, il tendone è già in Via Lombardia, i servizi lì ci sono tutti, ci sono gli allacci per il computer, ci sono i servizi per i sanitari e per gli utenti, quindi è una zona nuova rispetto a quella di prima, che però secondo me è più funzionale e anche più facile da allestire. Il punto tamponi sarà sempre organizzato in modalità drive, si arriva con la macchina, si abbassa il finestrino e si riparte. I risultati arriveranno dopo un paio di giorni, collegandosi al portale. La gestione è affidata ad Asur, sia per quello che riguarda il personale sanitario che amministrativo, mentre i volontari saranno quelli che cureranno in qualche modo l'ingresso e l'uscita della zona tamponi. Abbiamo messo a disposizione anche un locale per i tamponi antigenici per i ragazzi delle scuole superiori, perché da parte dell'azienda sanitaria c'è la volontà anche di sviluppare quel servizio, quindi in quella zona siamo in grado di dare più risposte.